Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, forse ricorderete dello scontro annunciato fra due giganti del Big Tech, due colossi della rete, Elon Musk e Mark Zuckerberg, i quali si erano in qualche modo dati un appuntamento bellico promettendo uno scontro diretto sul ring. I due non si sono mai stati particolarmente simpatici e da questa reciproca idiosincrasia era nata l'idea di uno scontro sul ring dove minacciavano di suonarsele di santa ragione. Ebbene sembra che questo progetto, lungi dall'essere una minaccia campata per aria, si stia materializzando e pare che, da quel che leggiamo sui quotidiani di questi giorni, proprio l'Italia sarà il teatro di questo scontro fra due colossi del grande capitale tecnologico quali sono Elon Musk e Mark Zuckerberg. In particolare pare che lo scontro dovrebbe avvenire al Colosseo e ci stupiamo in vero che l'Italia si presti a questa che non sapremmo definire altrimenti se non una pagliacciata universale. Ebbene l'Italia ancora una volta rivela anche in questo caso il proprio grado estremo di subalternità al capitale americano centrico e anche sotto questo profilo vi è ben poco di che stupirsi in vero, dato che l'Italia primeggia nel ruolo di colonia di secondo ordine di Washington e non stupisce dunque che si presti anche a queste colossali pagliacciate di dubbio gusto. Vedremo se davvero ci sarà lo scontro al Colosseo, pare di sì, lo dicono i principali e più venduti quotidiani e quindi le premesse paiono essere state poste, vedremo se davvero si svolgerà e una volta di più l'Italia perde una buona occasione per non coprirsi di ridicolo. Va detto che ultimamente l'Italia è come se facesse a gara nel coprirsi di ridicolo aderendo a tutte le più sciocche manifestazioni di vuota profondità per dirla con Hegel.